E' giusto individuare nella Liuc la centralità dello studente? E' più che giusto. Per cercare di farsi un'idea di quanto sia giusto bisogna considerare una cosa. La Liuc è una delle più giovani e più piccole università nel panorama italiano. Siamo nati 18 anni fa, gestiamo qualcosa tra i 2.000 e i 2.500 studenti iscritti alla nostra università, quindi piccole dimensioni, relativamente giovane età. In un contesto, quello della Lombardia, dove la concorrenza è certamente molto forte. Noi siamo un'università privata, il nostro vantaggio competitivo deve essere cercato proprio nel discorso del servizio agli studenti. Lei ha detto meglio di me attenzione per gli studenti. Gli studenti sono al centro delle nostre attività, sia per quanto riguarda l'attività didattica, che per quello che riguarda l'attività extradidattica. Ne facciamo ovviamente una nota, un must, che dovrebbe convincere i ragazzi a cercare la nostra università al posto di altre. Ecco, professore, cerchiamo di parlare anche del percorso formativo degli studenti. Dove si situa per la Liuc quel punto di equilibrio tra ciò che gli americani chiamano skills and behavior, cioè tra le abilità dello studente e le sue inclinazioni, anche comportamentali. Dunque, siamo stati la prima università, quello che è noto a me in Italia, a impostare un programma di skills and behavior, cioè un programma a latere delle attività istituzionali dei corsi di laurea che consentisse agli studenti di far evolvere le proprie capacità specifiche, gli skills, e farli prendere coscienza dei buoni comportamenti in ambito sia sociale che lavorativo. Questo tipo di approccio, devo dire, in passato ci ha dato molte soddisfazioni, nel senso che a nostro giudizio ha contribuito a far crescere gli studenti, a far loro assumere consapevolezza di quello che li avrebbe attesi una volta laureati e immersi nel mondo del lavoro, e contemporaneamente ci ha dato anche soddisfazione perché dalla parte delle aziende, dalla parte delle imprese che assumevano i nostri laureati, c'è stata la constatazione che il percorso che i ragazzi avevano seguito aveva portato a risultati veramente soddisfacenti. Una parola che va di moda di questi tempi è sicuramente ricerca, se ne riempiono la bocca un po' tutti, a cominciare dai politici, l'Università Cattaneo come la traduce infatti? La traduce perseguendo un duplice obiettivo, diciamo, da un lato, per restare ancora vincolati alla didattica, quello della formazione alla ricerca, lo fa attraverso i dottorati, noi gestiamo all'interno dell'Università Cattaneo un corso di dottorato in gestione integrata di aziende, è un corso post laurea di tre anni a cui possono partecipare studenti della facoltà di Economia, di Giurisprudenza e di Ingegneria. Gestiamo poi altri tre dottorati in consorzio con altre università, sia lombarde che collocate sul territorio nazionale, soprattutto nell'ambito dell'economia e della giurisprudenza. Uno ce n'è anche per la facoltà di Ingegneria. Prima di chiudere mi permetto, professore, di farle una domanda un po' personale. Prima di essere rettore, lei è stato anche studente. Qual è stata quella cosa che come studente avrebbe voluto avere e che ora la Liuc offre ai suoi iscritti? Mi prende un po' di sorpresa, ma cercherò di sintetizzare la cosa dicendo un po' più di attenzione di quello che ho avuto ai miei tempi. Nel senso che non sono ancora convinto che la cosa sia negativa oppure abbia in sé delle positività. Quando ho frequentato l'università io, ed è stato prima del 68, sono uscito dal corso di laurea prima del 68, lo studente doveva arrangiarsi. Probabilmente era un metodo di selezione degli studenti. Chi riusciva faceva tutto il percorso fino alla laurea e poi dopo non aveva più problemi di inserimento nel mondo del lavoro. Uscivano i migliori, c'erano dei rapporti tra iscritti e laureati veramente spaventosi. Oggi siamo abituati a scandalizzarci del fatto che dopo un anno nell'università statale abbandoni il 20-25% degli studenti. Quando ho fatto l'università io era ancora peggio e soprattutto era peggio il ritardo con cui i ragazzi si laureavano. L'università di elite andava chi aveva la famiglia con i quattrini, per cui se si laureava in 5 anni oppure in 10 era la stessa cosa e così via. Però il tutto avveniva nel massimo della disattenzione da parte della struttura nei confronti degli studenti. Ecco, questo secondo me è quello che va evitato. Perché va evitato? Perché uno porta a spreco di risorse economiche da parte della struttura, sia essa privata sia essa pubblica. Due, porta allo spreco di risorse umane. Perché quei ragazzi che per qualche difficoltà di ordine psicologico o di ordine approccio allo studio non dovessero riuscire, se non vengono ripescati, se non vengono convinti psicologicamente e tecnicamente che possono farcela, che possono andare avanti, sono ragazzi che si perdono e quindi costituiscono una perdita secca dal punto di vista delle risorse umane per l'intero paese. Fondamentale, non solo a fini pratici, ma anche dal punto di vista culturale, l'offerta delle borse di studio. Ad alimentarle fondi privati, imprese, banche, associazioni come gli Amici della Liuc e la Famiglia Legnanese e pubblici, Regione Lombardia, Camera di Commercio, Provincia e Comuni di Castellanza. Notevole anche l'occhio di riguardo per gli studenti più in gamba, dimostrazione di un ateneo che fa della meritocrazia non una semplice etichetta, bensì un solido principio. I ragazzi che vantano una maturità pari al 100 su 100 godono di uno sconto del 50% sull'iscrizione o a scalare del 25 e del 12%, vantaggio rinnovabile ogni anno in base ai meriti conseguiti. Risposta importante anche alla voce solidarietà e gioco di squadra, la Liuc ha infatti messo appunto un organizzato servizio di tutoraggio, gestito dagli studenti di maggiore esperienza.